Buonasera a tutti, benvenuti nella foresta di Sherwood. Oggi iniziamo un ciclo di eventi che abbiamo deciso di chiamare Sherwood for Rights con l'intento di approfondire delle tematiche che ci hanno interessato quest'anno sia come attivisti dei centri sociali, sia come nel caso mio e di Giada come attivisti di un collettivo che si occupa di questioni di genere. E siamo scesi in questi mesi nelle piazze a contrastare il fenomeno delle sentinelle in piedi che non rappresenta altro che una nuova ondata di conservatorismo, potremmo dire, che sbandiera questa fantomatica teoria del gender che nel dibattito di domani scopriremo di cosa si tratta e scopriremo che effettivamente non esiste, non è altro che un'etichetta inventata a fini polemici e poi cercare di capire di cosa si parla, come dice il titolo del libro che presentiamo oggi, quando si parla di famiglia. I nostri ospiti sono gli autori del libro, Maria Rosaria Marella, ordinario di diritto privato nell'Università di Perugia e Giovanni Marini, ordinario di diritto privato comparato dell'Università di Perugia e con Giada Perin, attivista del Centro Sociale Bocciodromo e del collettivo We Want Sex. Passo la parola a Giada che ci aiuterà a introdurre il libro di oggi. Intanto ringrazio tutte e tutti di essere qui e ringrazio soprattutto i nostri ospiti per essere venuti questa sera. Cercheremo di farli parlare il più possibile perché è stato difficile scegliere delle domande che potessero rendere in maniera esaustiva tutti gli argomenti trattati da questo libro che affronta l'argomento della famiglia non solo da un punto di vista giuridico ma anche da un punto di vista storico e da un punto di vista politico con uno sguardo anche ai movimenti che stanno dando un contributo all'evoluzione del diritto di famiglia attraverso la rivendicazione del riconoscimento di una pluralità di modelli familiari e di una parità di diritti dei membri che compongono questi modelli familiari. Allora, di cosa parliamo quando parliamo di famiglia? Diciamo che attraverso un'analisi dell'istituto familiare nel pensiero giuridico moderno occidentale e anche negli ordinamenti giuridici statuali gli autori chiariscono fin da subito un punto fondamentale. La famiglia non è un ente collettivo naturale e pregiuridico ma è un istituto del diritto positivo che come tale è funzionale al mantenimento di un determinato ordine pubblico e sociale e che è volto all'affermazione di determinate scelte politiche, morali e ideologiche di tipo contingente. Nella prima parte del libro gli autori affrontano i modi in cui il diritto ha affrontato il tema della famiglia a partire dal pensiero giuridico classico, passando poi per il pensiero sociale fino alla fase del diritto contemporaneo che riconosce una pluralità di modelli familiari all'interno dei quali sopravvivono però le diverse visioni del diritto in maniera complessa ed eterogenea. La prima domanda è questa dunque. Che rapporto esiste fra il diritto e la famiglia? Perché parliamo di specialità del diritto di famiglia rispetto al diritto che regola i rapporti patrimoniali e in che modo nel diritto contemporaneo si sta superando questa specialità del diritto di famiglia a favore ad esempio di una visione contrattuale dei diversi modelli di famiglia? Grazie intanto per questo invito per aver deciso di presentare questo nostro lavoro e veramente ci fa molto molto piacere perché quest'anno in particolare si sono succedute una serie di sentenze di interventi legislativi, di interventi di corti europee e di altri paesi come l'ultima quella della corte superiore degli Stati Uniti che ci fanno vedere quanto effettivamente sia corretto quello che diceva Loris cioè il fatto che la famiglia è sempre più un terreno di conflitto politico però la famiglia è anche una costruzione giuridica e la costruzione giuridica della famiglia emerge in fondo non tanto tempo fa se pensiamo alla storia millenaria del diritto perché emerge nella costruzione di un giurista tedesco molto importante Savigny, fondatore della scuola storica che parliamo di metà dell'Ottocento ricostruisce il diritto privato e nell'ambito del diritto privato stacca questa branca del diritto facendone il diritto di famiglia appunto mentre prima c'erano regolamentazioni di relazioni familiari che però si trovavano intrecciate con le relazioni per esempio servo padrone dunque la costruzione era quella del cosiddetto household per usare un termine inglese che ci aiuta però perché insomma, che ci aiuta perché è qualcosa di diverso dalla casa cioè è un'organizzazione economica mentre invece la famiglia poi con Savigny diventa quella che poi nella costituzione ritroviamo come società naturale fondata sul matrimonio in che cosa si differenzia dal resto? perché non è puramente diritto ma è anche morale è anche tradizione, è anche costume così la costruisce Savigny ed è necessaria e dunque anche l'intervento del diritto è necessario perché la famiglia non può non esistere quindi è subito qui nelle parole di un giurista estremamente abile che troviamo questa ambiguità si inizia subito a dire che la famiglia non è davvero qualcosa di costruito dal diritto ma è pregiuridico e lo dice lui mentre la sta costruendo e da subito troviamo quindi queste ambiguità della famiglia che ritroviamo ancora oggi cioè la famiglia che ha l'incrocio fra pubblico e privato e la famiglia che ha l'incrocio si pone diciamo al centro da una parte una certa relazione problematica con lo Stato dall'altra una relazione con il mercato allora per venire alla tua domanda innanzitutto la famiglia è una branca del diritto privato ma in varie periodi storici si è piuttosto invece sottolineata la sua appartenenza al diritto pubblico proprio perché sentita come un'organizzazione un'istituzione sociale che serve a governare appunto la società e a costruirla in un certo modo e a mantenere un certo ordine sociale dunque di qui l'interferenza con lo Stato che viene concepita come più legittima che l'interferenza con il mercato quindi le regole del diritto di famiglia non sono tendenzialmente derogabili mentre invece lo sono quelle del contratto e tuttavia questa ricostruzione è estremamente ideologica perché serve proprio a marcare questo spartiacco perché in realtà nella tecnica giuridica è molto meno fondato di così quindi intervento dello Stato che sembra essere più legittimo nella famiglia d'altra parte anche però si dice no perché la famiglia è una società naturale allora lo Stato non deve intervenire perché è qualcosa di naturale e di pregiuridico e dunque un'ambivalenza costante una tensione costante e d'altra parte anche il rapporto con il mercato la famiglia appunto Savini la costruisce come qualcosa di diverso rispetto al diritto patrimoniale ma è una tradizione che noi recuperiamo che conserviamo che fino a poco tempo fa una curiosità per esempio ancora fino a qualche anno fa di diritto di famiglia si occupavano solo le giuriste donne e perché? perché le donne hanno maggiore sensibilità forse ma anche e soprattutto perché il diritto di famiglia viene concepito come qualcosa di meno tecnico e allora le donne essendo viste come giuriste meno brave tecnicamente allora si possono occupare il diritto di famiglia laddove invece il diritto dei contratti si occupano gli uomini ovviamente quindi c'è tutta questa ideologia dietro la separazione fra famiglia e mercato che tuttavia tende a stemperarsi da una parte e dall'altra però anche a subire dei colpi di coda in che senso? un grande giurista inglese definiva il diritto moderno come un allontanarsi dallo status quindi da un'identità rigida e da una relazione con gli altri rigida dallo status al mercato al contratto e dunque la capacità di costruirsi attraverso la propria volontà le relazioni sociali la famiglia è il regno dello status ma tende a diventare sempre più contrattualizzata si possono negoziare le forme del vivere insieme ovunque meno che in Italia ma o altrove sì con grande varietà anche di arrangements che si possono trovare nei vari diritti nazionali e quindi ci si avvicina al contratto quindi autodeterminazione che però è anche capacità di costruire la famiglia in un modo più simile appunto al mercato ora questo da una parte è visto per esempio in Italia appunto dove c'è un diritto tendenzialmente più tradizionale della famiglia è anche visto con qualche diffidenza e dunque abbiamo avuto per esempio delle sentenze fino a pochissimi anni fa della Cassazione assolutamente contrarie agli accordi tra coniugi in vista del divorzio che sono più o meno riconosciuti come validi ovunque proprio perché anche la contratualizzazione della famiglia viene non solo per dire l'eterosessualità ma anche la possibilità di contratualizzare le relazioni familiari sono viste un po' come tabù quello qui stiamo assistendo però qui chiudo quello qui stiamo assistendo di recente però è invece ad una costruzione di una dicotomia all'interno dei regimi della famiglia questo direi almeno in tutto l'Occidente cioè da una parte c'è una certa appunto una contratualizzazione delle relazioni di coppia dall'altra invece un intervento statale un controllo molto forte per quanto riguarda le relazioni genitori figli e il diritto dei minori sta diventando oggi lo strumento di controllo e di costruzione di un ordine sociale di controllo delle vite dei genitori ecco nel tuo intervento fai riferimento a questa dicotomia fra famiglia e mercato è possibile però allo stesso tempo dire che la visione tradizionale borghese della famiglia che è ampiamente rappresentata negli ordinamenti giuridici sia comunque utile al rafforzamento di relazioni patrimoniali e sociali funzionali all'economia capitalista No certamente questo dato è estremamente importante nel senso che l'idea di famiglia se da una parte sottrae al mercato dall'altra parte è funzionale al mercato e faccio un esempio molto semplice la sottrazione al mercato significa che il lavoro di cura della donna all'interno della famiglia non viene retribuito e dunque che cosa significa questo significa che l'uomo mantiene una sua posizione di privilegio e significa che all'interno dei rapporti del diritto di famiglia i rapporti tra l'uomo e la donna sono di nuovo articolati in maniera tale da favorire l'uomo questo è molto evidente nella misura in cui noi consideriamo un dato fondamentale che al momento della separazione dei coniugi il lavoro di famiglia non viene retribuito cioè il contributo che la donna dà all'andamento familiare non trova alcun riscontro questo fa sì anche che questo diritto influisca sulle identità personali perché le donne avranno più difficoltà a lasciare la famiglia laddove non riescono a trovare all'esterno della famiglia dei supporti delle possibilità di impiego e per una donna che ha lavorato poco è evidente perché si è dedicata alla famiglia con il passare del tempo questo lavoro questa possibilità tende a diminuire ora quello che è importante sottolineare che queste tendenze che ricordava anche Maria Rosaria non sono tendenze solamente nazionali solamente italiane ma sono tendenze globali nel senso che questa specialità del diritto di famiglia è un elemento che è trasversale a tutti gli ordinamenti si ritrova in tutti gli ordinamenti dei paesi occidentali si ritrova anche in ordinamenti che dovrebbero essere molto diversi dal nostro come gli ordinamenti dei paesi orientali dei paesi islamici quindi c'è uno stretto collegamento tra la produzione del soggetto produttivo e il regime del diritto di famiglia che è un elemento trasversale che caratterizza il panorama di tutti gli ordinamenti giuridici grazie con riferimento a quello che dicevi tu in questa risposta e con particolare riferimento al ruolo della donna nel rafforzamento di una determinata idea di famiglia e struttura della famiglia in che misura si pongono i diritti civili e i diritti sociali nella disciplina della famiglia oggi? dunque la famiglia oggi viene vista soprattutto come un terreno di scontro sui diritti civili perché le lotte dei movimenti LGBT sono appunto per i diritti civili e per l'uguaglianza che però non viene mai declinata o scarsamente declinata in senso nel senso dell'uguaglianza sostanziale cioè di condizioni economiche ma appunto sul terreno più propriamente dell'identità e dunque uguaglianza vuol dire riconoscimento mentre invece non si stenta a vedere nella famiglia e nel suo regime giuridico una fonte di redistribuzione di risorse ora invece questo è molto chiaro in alcuni passaggi che hanno portato a riconoscimento del matrimonio same sex negli Stati Uniti e in particolare in una sentenza del 2003 della Corte Suprema del Massachusetts in cui viene riconosciuto per la prima volta la legittimità del matrimonio same sex e qui come un materia di uguaglianza qui la Corte Suprema del Massachusetts fa un discorso molto interessante cioè dice che l'accesso al matrimonio da parte delle coppie same sex è una questione di uguaglianza perché il matrimonio elargisce tutta una serie di benefici sul piano dell'accesso a diritti sociali quei pochi esistenti ma comunque sul piano anche di quei diritti sociali che hanno un fondamento un'organizzazione di carattere privatistico per esempio pensiamo negli Stati Uniti molto rilevante sono le assicurazioni sulla salute allora normalmente il coniuge paga un premio molto inferiore le coppie same sex non avevano questa possibilità prima che il matrimonio divenisse accessibile quindi questo è esattamente legato al welfare ma non solo la corte fa un discorso relativo anche a quelle che sono le caratteristiche più tradizionali del matrimonio per esempio certi regimi relativi alla divisione della proprietà la possibilità di partecipare alla successione in caso di morte e sono tutte situazioni soggettive che hanno una loro sostanza economica molto forte ora la corte nel dire questo dice anche perché il matrimonio è una cosa importante non come le coppie di fatto quelle non ci importano dunque nel fare questo è anche molto evidente il passaggio verso un rafforzamento dell'istituto matrimoniale visto però appunto non tanto non solo direi come fonte di riconoscimento quindi fonte di diritti civili ma anche e soprattutto di diritti sociali l'ultima cosa che volevo dire a questo riguardo è che proprio su questo crinale si è anche giocato uno scontro fondamentale che c'è stato negli Stati Uniti negli anni 60 quando si inizia a formare il movimento queer che si pensa sia una cosa molto recente ma non lo è affatto proprio a proposito del matrimonio perché già fino agli anni 60 e anni 70 negli Stati Uniti il movimento gay si inizia a parlare di matrimonio e chi lo rigetta e quindi chi inizia a elaborare un pensiero queer anti identitario mette molto più in evidenza la necessità di di guadagnare come movimento gay dei diritti sociali fuori dal matrimonio e quegli anni soprattutto era tutela della salute contro l'AIDS che non invece avere questa forma di riconoscimento che peraltro veniva criticata da molti altri punti di vista ecco nella fase contemporanea del diritto abbiamo visto seppur con grande fatica il riconoscimento di modelli familiari plurali all'interno di questi modelli familiari quali sono diciamo i baluardi della famiglia tradizionale che stanno subendo un maggior processo di erosione voi nel vostro libro fate riferimento a due esempi quello della dissociazione fra matrimonio e famiglia e quell'ulteriore della dissociazione fra matrimonio e coppia potete spiegarci questi passaggi diciamo una cosa importante prima di entrare nel specifico di questa domanda io volevo sottolineare la cosa che ha detto da ultimo Maria Rosaria perché secondo me è un momento fondamentale è una prospettiva fondamentale nella quale attraverso la quale noi dobbiamo guardare questi problemi cioè vale a dire che noi facciamo una battaglia o siamo dentro una lotta per due questioni che sono completamente diverse anche se sono interrelate tra di loro cioè una è il riconoscimento di una identità che è importante cioè attraverso il matrimonio si vogliono riconoscere attraverso l'estensione del matrimonio si vogliono riconoscere e porre sullo stesso piano sociale identità diverse la seconda che pure è estremamente importante è una battaglia per la redistribuzione delle risorse vale a dire si vuole attraverso gli istituti giuridici e attraverso l'intervento del diritto realizzare una distribuzione di risorse più equa all'interno delle coppie ed è un elemento secondo me estremamente importante l'accesso al matrimonio diventa anche l'accesso per ottenere una redistribuzione delle risorse perché le coppie che same sex accedono al matrimonio e attraverso la formalizzazione ottengono anche una redistribuzione di risorse quindi la possibilità di avere delle benefici previdenziali la possibilità di avere una tutela per la salute la possibilità di essere di condividere di poter assistere il proprio partner sono tutti elementi che sono estremamente importanti e si collegano alla dimensione del riconoscimento tornando alla questione di cui alla domanda che si poneva cioè vale a dire quali sono i momenti di resistenza è ovvio che il riconoscimento delle coppie same sex produce un effetto abbastanza interessante perché se da una parte mette in discussione uno degli stereotipi e uno dei paradigmi più importanti che è quello della eterosessualità d'altra parte però rafforza un altro stereotipo che è quello della monogamia ora ci sono tanti modi di stare insieme che possono passare attraverso relazioni affettive plurali o anche non attraverso relazioni affettive plurali ma attraverso un altro modo di stare insieme che possono in qualche modo essere escluse ed essere in qualche modo stigmatizzate rispetto al riconoscimento del matrimonio same sex cioè quando si parla di riconoscimento c'è una inclusione che implica necessariamente un'esclusione quando noi ci poniamo da questo punto di vista dobbiamo cercare di capire fare un'analisi attenta a quali sono i vantaggi della inclusione e quali possono essere gli svantaggi di questa esclusione facciamo riferimento al contesto europeo a che punto si trova il processo di integrazione delle discipline della famiglia degli ordinamenti statuali rispetto alla disciplina della famiglia che troviamo nel diritto internazionale e nel diritto europeo e soprattutto il contesto italiano a che punto si trova di questo processo di integrazione il contesto italiano molto bene come tutti sanno il diritto italiano è quello fra i più arretrati sicuramente perché conosce attualmente solamente il matrimonio eterosessuale e nessuna altra forma laddove invece in altri paesi esistono molte forme giuridiche riconosciute del vivere insieme anche se e c'è un approssimarsi verso il matrimonio same sex da parte di tutte questo perché negli altri paesi l'apertura della famiglia tradizionale ad altre forme ad altre identità e ad altre forme di convivenza è stato graduale quindi prima sono riconosciute le forme di unioni registrata per coppie eterosessuali omosessuali prima erano negati i diritti di filiazione poi sono stati riconosciuti a coppie same sex e poi si è arrivati al matrimonio poi c'è anche in alcuni paesi tipo la Spagna si è fatto il salto subito verso il matrimonio same sex ma in linea generale l'avvicinamento diciamo ad un'apertura alla rottura definitiva del paradigma dell'elettore sessualità è stato piuttosto graduale in Italia non avviene pare nulla di questo anche se c'è in discussione ora in Parlamento un disegno sulle unioni civili e devo dire che però l'Europa non è non fa da elemento propulsore rispetto a questo cioè l'Europa non ha non ha assolutamente accelerato un processo di di avanzamento in paesi come l'Italia questo perché perché tutte le istituzioni europee sia quelle che hanno potere di legiferare quindi di produrre per esempio direttive o regolamenti sia le le corti in particolare la corte di giustizia tendono a usare il il parametro del minimo comun denominatore cioè siccome la famiglia e questo fa parte della sua specialità la famiglia viene sempre percepita con un punto con qualcosa di diverso quindi come anche qualche cosa che è costitutiva di un'identità nazionale le istituzioni comunitarie cercano di evitare il più possibile di di imporre standard che non sono accettati in un diritto nazionale e dunque si attestano sul minimo il minimo attualmente effettivamente è il matrimonio heterosessuale e dunque questo spiega perché l'Europa anche a dispetto di una certa norma della carta di inizia che sembrava poter aprire poi invece non sta funzionando in questo senso passo un attimo la parola a Loris mi avete fatto anche riferimento al caso irlandese per esempio adesso c'è stato il referendum in Irlanda tramite il quale si è c'è l'accesso al matrimonio per le coppie omosessuali ma l'Irlanda è anche il paese in cui ancora non è possibile abortire che collegamento c'è se c'è tra queste due cose e perché un paese come l'Irlanda fortemente cattolico accetta il matrimonio omosessuale ma rimane ancora rigido nei confronti dell'aborto ma io credo che sia anche qui una questione di identità nazionale che viene giocata in questo modo bisognerebbe anche capire in che misura la confessionalità più o meno sfumata di uno Stato come l'Irlanda poi non importi una dei limiti anche al potere legislativo che possono essere avvertiti come più forti rispetto all'aborto che non rispetto al matrimonio same sex perché comunque come abbiamo detto il matrimonio same sex è comunque una conferma della centralità del matrimonio come elemento di organizzazione sociale mentre invece l'aborto rinvia comunque ad una libertà femminile che è un po' un po' cioè effettivamente un po' curioso perché uno dei motivi per cui l'aborto non era permesso era perché il sesso deve essere procreativo e se si ammette l'aborto il sesso non lo è più però cioè si può disgiungere questo è un famoso argomento anche femminista cioè il sesso non deve essere necessariamente riproduttivo ma anche il matrimonio same sex non è di per sé naturalmente riproduttivo e dunque certo io credo che molto dipende da come le istituzioni politiche di un paese possono gestire questi diversi conflitti quello che mi viene da pensare che però su questi due temi ci sia una convergenza che qual è è la possibilità dello Stato di governare tanti corpi quanto il vivere insieme perché tutto sommato è lo Stato che regola il matrimonio e lo Stato che proibisce l'aborto e quindi c'è quanto meno c'è un elemento di coerenza in queste due cose c'è in questo sempre facendo riferimento al contesto europeo che rapporto esiste fra il diritto di famiglia e il diritto dell'immigrazione in altre parole in che modo il riconoscimento dei diritti dei soggetti migranti informa anche l'evoluzione del diritto di famiglia in Europa ma anche qui non c'è stata una una grande produzione perché come dicevo le istituzioni europee hanno teso a a non entrare troppo nella famiglia in realtà è proprio la circolazione delle persone che porta la corte di giustizia e contemporaneamente la commissione a iniziare a costruirsi una competenza nella famiglia che in teoria poteva non esserci perché l'obiettivo era quello di costruire un mercato unico quindi la famiglia tutto sommato non si vedeva perché dovesse essere perché mai dovesse entrarci invece proprio la circolazione delle persone che inizia a interrogare la corte di giustizia perché si pone il problema proprio dei conviventi non coniugati possono essere possono accompagnare il il partner e quindi avere il permesso di soggiorno ed è proprio questo che inizia a costruire attraverso questo che la corte di giustizia si costruisce una competenza nel diritto di famiglia qui abbiamo un parlando ancora di cittadini di paesi membri devo dire che anche qui è stato usato un un metro molto restrittivo che ha impedito per esempio di poter usufruire dell'avanzamento di altri diritti di diritti di altri paesi membri a fini di rendere più flessibile il nostro diritto perché la direttiva che prevede la possibilità per partner anche same sex di ricongiù di di seguire il proprio partner fa riferimento solamente ai paesi che già abbiano un tipo di legislazione del genere quindi quella direttiva non si applica l'italia e dunque non è servita ad avanzare il diritto italiano per quanto riguarda l'immigrazione il modello è quello della famiglia nucleare quindi nel diritto del ricongiungimento di cittadini non di paesi cittadini non di paesi membri quindi cittadini extracomunitari si può il ricongiungimento è riconosciuto solo nei confronti di un partner e quindi per esempio l'istituzione poligamica non è non è riconosciuta e altre forme che appunto non siano previste dal diritto europeo rispetto alla poligamia c'è stata una una prima apertura che poi invece è stata negata successivamente quindi attualmente comunque i matrimoni poligamici sono contrari all'ordine pubblico in linea di massimo quindi non vengono riconosciuti un altro modo per intervenire rispetto a culture extracomunitarie è la questione del matrimonio non volontario diciamo quindi non so i matrimoni combinati i matrimoni con minori sono tutti ritenuti invalidi e quindi quello è un altro modo per esportare in linea generale diciamo che l'esportazione della cultura dei diritti umani è anche un modo di di intervenire in modo capillare sulle culture altre perché i diritti fondamentali nel se hanno come interfaccia diciamo l'organizzazione familiare fanno riferimento a che cosa la parità fra i coniugi a un certo trattamento dei figli minori che comporta poi che porta con sé tutta una serie di stereotipi sociali fortissimi che comportano poi degli strumenti cioè che comportano poi delle delle alla fine gli esiti sono quelli di controllo sociale di non accettazione eccetera eccetera questo è molto evidente se si va a vedere anche la giurisprudenza minorile italiana nei confronti dei minori ci sono tutta una serie di cose veramente molto tristi cioè per esempio di allontanamenti di minori da nuclei familiari di affidamento ad altre famiglie proprio spatte veramente sulla base di di stereotipi devo dire che molti molti giudici minorili italiani sono molto bravi in questo cioè sono molto avanti molto in grado di di cogliere appunto la la potenza distorsiva dello stereotipo però effettivamente i diritti umani che appunto vengono assolutamente ritenuti un'arma di 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 avanzamento di una tradizione giuridica però sono anche uno strumento di colonizzazione abbastanza potente rispetto a queste cose in chiusura abbiamo abbiamo capito che c'è un distaccamento tra la famiglia e il matrimonio cominciano a esserci anche nuove forme di riconoscimento per esempio i PACS di famiglie diciamo che non rientrano nel matrimonio e il matrimonio è evidente che è un'istituzione in crisi lo vediamo dai tentativi per esempio del divorzio breve di anche lo stesso matrimonio senza ex può essere un tentativo di salvare un'istituzione che sta che sta crollando secondo voi che futuro può avere l'istituzione matrimoniale se ne ha ancora e come farà ad affrontare appunto le nuove forme quali il poliamore nuove forme di rapporti interpersonali che che esistono e che cercano di prendere sempre più voce insomma mi pare che hai molto bene posto la questione cioè dicendo che c'è una crisi del matrimonio e dunque l'intervento statale è quello di rafforzare il matrimonio sia nella versione etero che nella versione senza ex nella misura in cui garantisce il profilo della monogamia cioè vale a dire un profilo intorno al quale si regge un determinato assetto sociale e dunque anche una distribuzione di poteri e di risorse che ruota intorno alla monogamia è evidente che per il matrimonio è ovvio è difficile poter rispondere cioè non è l'istituto se noi lo leggiamo così non è l'istituto giuridico che è idoneo a dare rilievo alle altre forme di convivenza è interessante che però nel nostro diritto si è percorso come nel diritto di altri paesi una strada che è parallela a quella della famiglia ed è la strada dei diritti della persona cioè l'idea che noi abbiamo un diritto ad autodeterminarci in alcune scelte esistenziali che sono costitutive della nostra personalità questo è un diritto che è per esempio negli Stati Uniti tutta la questione del riconoscimento dei matrimoni same sex è iscritta dentro un diritto di autodeterminazione che si chiama il diritto alla privacy nel diritto europeo questa parola è tradotta in un diritto alla vita privata il che significa che noi abbiamo il diritto di poter scegliere i tipi di associazione nei quali associazioni intime relazioni personali che vogliamo svolgere perché sono un profilo essenziale della nostra persona questa scelta ovviamente si contrappone a qualunque tipo di intervento statale che voglia comprimerla quindi secondo me questa potrebbe essere una delle risposte è ovvio che però gli arbitri di questo discorso sono le corti sono i giudici i quali tendono nei loro valutazioni pur essendoci molti casi nei quali hanno dato prova come diceva Maria Rosalia di grandissima lungimiranza però quando si passa alle corti supreme quando si passa alle corti costituzionali le corti costituzionali cercano come dire di collegarsi a ciò che è la tradizione culturale e giuridica di un determinato paese e dunque alcune forme di associazione che sono minorietarie che non sono che non godono ancora di un riconoscimento sociale fondato e condiviso sono in qualche modo osteggiate e dunque di nuovo ritorniamo alla non tutela delle espressioni minorietarie o delle espressioni idiosincratiche della propria personalità ringrazio i nostri ospiti e Giada per avermi assistito nell'intervista e vi ringrazio soprattutto per aver fatto luce appunto su che cos'è la famiglia il libro lo trovate qui e ringrazio tutti e vi ricordo che domani c'è il dibattito ma quale ideologia del gender con gli ospiti Lorenzo Bernini Sara Garbagnoli e Leonardo Bianchi grazie a tutti